La disciplina è ciò che distingue una persona mediocre da una straordinaria, è la capacità di andare oltre gli altri. Questa caratteristica non è innata, ma si costruisce con il tempo e con la pratica costante. Avere disciplina è molto complicato, richiede sforzo continuo e la capacità di ingannare il proprio cervello. Questo perché, come esseri umani, abbiamo un istinto primitivo che ci spinge a cercare dopamina, una sostanza chimica che si genera nel nostro cervello e che ci dà una sensazione di piacere e soddisfazione immediata. La dopamina è fondamentale per il nostro benessere psicologico, poiché ci premia con una sensazione di piacere ogni volta che compiamo azioni favorevoli per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. Per esempio, mangiamo quando abbiamo fame, beviamo quando abbiamo sete, e ci riproduciamo per lasciare discendenza come specie. Questi comportamenti sono essenziali per la nostra sopravvivenza e la dopamina ci motiva a perseguirli. Ha una sua logica, quindi, il fatto che il nostro cervello ci premi con piacere quando compiamo queste azioni fondamentali. È un sistema che ha permesso all'essere umano di progredire e di evolversi nel corso dei millenni. La dopamina ha giocato un ruolo cruciale nel nostro sviluppo, spingendoci a cercare continuamente quelle attività che ci mantengono in vita e che ci permettono di prosperare. Tuttavia, questo potente meccanismo ha un unico, grande problema, è additivo. La dopamina non solo ci spinge a fare ciò che è necessario per la nostra sopravvivenza, ma può anche portarci a cercare continuamente il piacere, indipendentemente dal fatto che l'azione che compiamo sia benefica per noi a lungo termine o meno. In una società moderna dove le tentazioni sono ovunque, questo può diventare un problema serio. Pensiamo, per esempio, all'uso dei social network, dei videogiochi, o delle droghe. Queste attività possono stimolare la produzione di dopamina in modo molto rapido e senza richiedere sforzo, creando una dipendenza che può diventare dannosa. Il nostro cervello, alla ricerca di quella scarica rapida di piacere, può finire per trascurare attività più produttive e salutari, che richiedono impegno e fatica ma che portano a benefici reali nel lungo termine. La disciplina, quindi, diventa un'arma potente per combattere questo istinto primitivo. È la capacità di dire no a quelle tentazioni che offrono piacere immediato ma che non apportano valore reale alla nostra vita. È la forza di volontà di impegnarsi in attività che richiedono sforzo, ma che ci portano a raggiungere i nostri obiettivi più elevati e a crescere come individui. Costruire la disciplina richiede tempo e pratica. Significa allenare il proprio cervello a trovare piacere non solo nelle gratificazioni immediate, ma anche nelle soddisfazioni che derivano dallo sforzo e dal raggiungimento di obiettivi a lungo termine. È un processo che richiede costanza e determinazione, ma che porta a risultati straordinari. In conclusione, la disciplina è una delle chiavi fondamentali per distinguere una vita mediocre da una vita straordinaria. È ciò che ci permette di andare oltre i nostri limiti, di crescere e di prosperare in modo significativo. Senza disciplina, siamo alla merce dei nostri istinti primordiali e delle tentazioni che ci circondano, ma con essa, possiamo costruire una vita piena di realizzazioni e soddisfazioni durature. Non siamo una macchina perfetta, abbiamo i nostri difetti, per esempio invecchiamo e moriamo. A differenza delle macchine, che possono essere riparate e migliorate, noi esseri umani dobbiamo fare i conti con i limiti biologici e il decadimento fisico nel corso del tempo. Tuttavia, uno dei nostri difetti più insidiosi riguarda il modo in cui il nostro cervello gestisce il piacere e la dopamina. La dopamina, una sostanza chimica che il nostro cervello produce, è responsabile della sensazione di piacere e gratificazione. Sebbene sia cruciale per la nostra motivazione e sopravvivenza, la dopamina può anche essere la causa di comportamenti problematici e dipendenze. Nel caso della dopamina, è tristemente responsabile delle dipendenze che affliggono la società moderna, dipendenza dai social network, dai videogiochi, dalle droghe, e persino da cibi altamente gratificanti. Queste dipendenze sono un riflesso del nostro tentativo di ottenere piacere in maniera rapida e senza sforzo. Abbiamo trovato modi sempre più efficaci per stimolare il rilascio di dopamina nel nostro cervello, creando una cultura della soddisfazione istantanea. Il mondo attuale è pieno di stimoli che risvegliano la nostra soddisfazione istantanea, e questo rappresenta un problema significativo. Siamo circondati da dispositivi e servizi che ci offrono gratificazioni immediate, un like sui social media, un livello superato in un videogioco, una serie televisiva da binge-watching. La maggior parte di queste attività non ci apportano nulla di concreto, se non una temporanea sensazione di piacere. Il nostro cervello, abituato a questi picchi di dopamina, non genera più dopamina attraverso azioni che ci beneficiano realmente come persone. Non troviamo più piacere nelle attività che richiedono tempo, impegno e dedizione, come lo studio, l'esercizio fisico, o la costruzione di relazioni significative. Ora, il nostro cervello cerca dopamina con l'unico obiettivo di ottenere piacere immediato e facile. Con questa necessità di piacere immediato costantemente soddisfatta, non abbiamo più incentivi per compiere azioni che ci beneficiano davvero, soprattutto se richiedono sforzo. Questo è il più grande problema della società attuale. Le persone hanno dimenticato la sensazione di soddisfazione che si prova dopo aver ottenuto qualcosa con impegno e sacrificio. Lavorare duramente per qualcosa e raggiungerlo ci dà una gratificazione duratura e profonda, ma questa sensazione sta diventando sempre più rara. Perché dovrei sforzarmi se posso sentirmi bene senza fatica? Questa domanda riflette il dilemma moderno. Il nostro cervello è programmato per cercare la via più semplice per ottenere piacere, e nella società odierna, la via più semplice è spesso quella meno produttiva. La facilità con cui possiamo ottenere dopamina ci porta a evitare le sfide e le difficoltà, privandoci delle esperienze che ci permettono di crescere e migliorare. La soluzione a questo problema non è semplice, ma inizia con la consapevolezza. Dobbiamo riconoscere che la gratificazione istantanea è un falso piacere, che ci sottrae opportunità di vera crescita personale. Coltivare la disciplina, imparare a ritardare la gratificazione e impegnarsi in attività che richiedono sforzo può aiutarci a recuperare quella sensazione di soddisfazione autentica e duratura. Solo così possiamo sperare di costruire una vita piena di significato e realizzazione. Nel corso della tua vita, probabilmente hai provato la frustrazione di voler fare qualcosa, come fare esercizio o iniziare un nuovo progetto. All'inizio, quando sei motivato, tutto sembra andare bene, ma appena la motivazione svanisce, non riesci a proseguire. Questa è una mancanza di disciplina. Magari hai l'idea di avere un fisico bello e allenato. Decidi di iscriverti in palestra e di andarci tutti i giorni. Durante la prima settimana non salti nemmeno un giorno perché ti senti motivato, ma poi, durante la seconda settimana, arriva un giorno in cui ti senti stanco e pensi ci andrò domani, oggi mi riposo. E il giorno dopo accade lo stesso, e quello successivo ancora. Come possiamo risolvere questo problema in una società che premia la soddisfazione istantanea? Come possiamo diventare disciplinati e riuscire a raggiungere ciò che ci proponiamo, anche nei giorni in cui la motivazione manca? Possiamo guardare all'esempio di Miyamoto Musashi. Nonostante non fosse un filosofo stoico, la sua vita e la sua filosofia offrono grandi insegnamenti che possiamo applicare alle nostre vite per diventare più disciplinati e raggiungere i nostri obiettivi. Musashi ci insegna l'importanza della perseveranza, del rifiuto della gratificazione immediata e del focus su obiettivi a lungo termine, tutti elementi chiave per sviluppare una disciplina solida e duratura. Prima di continuare, ti sarei grato se mettessi un like al video, così mi aiuterai a diffondere questa filosofia a più persone. Se non vuoi perderti nessun video, iscriviti e attiva la campanella nelle impostazioni del video. Miyamoto Musashi fu un samurai nato in Giappone nel 1584. Fin da giovane, aspirava a diventare il miglior spadaccino di tutto il Giappone. Per questo, si allenò duramente e viaggiò per tutto il paese, sfidando e allenandosi con i migliori duellanti del suo tempo. Si racconta che abbia partecipato a più di 60 duelli, senza mai perdere. In molti di questi scontri, affrontava più nemici contemporaneamente, il che lo portò a sviluppare la tecnica di combattere con una spada in ciascuna mano. Oltre a essere un abile guerriero, Musashi fu anche un filosofo e autore di diversi libri, tra cui il celebre Il libro dei Cinque Anelli. In quest'opera, espose la sua filosofia e il suo percorso basato sulla disciplina, che lo portarono a diventare il miglior guerriero del Giappone. La sua filosofia di vita può essere riassunta in quattro punti principali. Rifiutare il desiderio. Miyamoto Musashi evitava di fare cose solo perché gli davano piacere immediato. Credeva fermamente che indulgere nei piaceri immediati lo avrebbe reso debole e indisciplinato. Rifiutando il desiderio, ovvero la soddisfazione istantanea, l'unico modo per il suo cervello di generare dopamina era attraverso la soddisfazione raggiunta con lo sforzo. Questo significava che, per esempio, quando sconfiggeva un avversario in un duello o completava un impegnativo allenamento con la spada, stava ingannando il suo cervello, insegnandogli che solo attraverso il duro lavoro e l'impegno si poteva ottenere quella preziosa sensazione di benessere. Per Miyamoto Musashi, la grandezza aveva un prezzo e lui era disposto a pagarlo, non importava quanto fosse difficile. Egli sapeva che la vera soddisfazione non si otteneva con il piacere momentaneo, ma attraverso la dedizione e il sacrificio. Pensate che sarebbe mai riuscito a diventare il miglior spadaccino del Giappone svegliandosi tardi o saltando un allenamento ogni volta che non ne aveva voglia? Certamente no. La sua filosofia era chiara. Il tempo è ben speso quando fai qualcosa con uno scopo prezioso e non c'è nulla che si avvicini a quella sensazione. Musashi insegnava che il rifiuto dei desideri superficiali e delle gratificazioni immediate era fondamentale per mantenere la disciplina e la concentrazione sui propri obiettivi a lungo termine. Ogni volta che ci si trovava di fronte a una scelta tra il piacere immediato e il duro lavoro, sceglieva sempre quest'ultimo, perché sapeva che solo attraverso la fatica si poteva raggiungere la vera eccellenza. Il suo allenamento era rigoroso e costante, e non c'era spazio per le scuse o per la procrastinazione. Inoltre, Musashi credeva che questo principio non si applicasse solo al combattimento con la spada, ma a tutti gli aspetti della vita. Rifiutando il desiderio e concentrandosi sul lavoro duro, si potevano ottenere risultati straordinari in qualsiasi campo. Questo insegnamento ci mostra l'importanza della disciplina e del sacrificio nella nostra vita quotidiana. Oggi, in una società che ci offre costantemente gratificazioni istantanee, ricordare e applicare la filosofia di Musashi può aiutarci a costruire una vita più significativa e appagante. Miyamoto Musashi ci ha lasciato un'eredità di saggezza che va oltre le arti marziali. La sua capacità di rifiutare il desiderio e di concentrarsi sul lungo termine è un esempio per tutti noi. Imparare a dire no ai piaceri immediati e dedicarsi con passione e perseveranza ai propri obiettivi è una lezione che può trasformare la nostra vita, permettendoci di raggiungere una soddisfazione autentica e duratura. Concentrarsi su una cosa alla volta. Miyamoto Musashi, il leggendario samurai, credeva fermamente che dedicarsi completamente e padroneggiare una sola arte potesse aprire mille strade diverse. Con questa convinzione, decise di focalizzare tutta la sua attenzione sull'arte della spada, dedicandosi ad un allenamento incessante e cercando costantemente di superare i propri limiti. Grazie alla sua determinazione e alla sua abilità, molte opportunità si aprirono per lui nel corso della sua vita, dimostrando che la padronanza di una singola competenza può avere un impatto significativo. È importante concentrarsi nel padroneggiare completamente una competenza alla volta invece di disperdere le proprie energie su molte attività diverse, magari scelte secondo l'umore del momento. La motivazione di fare molte cose contemporaneamente può spesso portare a non completarne nessuna, creando frustrazione e un senso di incompletezza. Al contrario, focalizzarsi su un singolo compito rende più facile sviluppare la disciplina necessaria per portarlo a termine. Quando questo diventa una parte consolidata della nostra routine quotidiana, possiamo procedere al compito successivo con maggiore facilità e sicurezza. Costruendo questa abitudine, non dipenderemo più dalla motivazione momentanea per fare ciò che dobbiamo fare. Invece, passo dopo passo, e con un compito alla volta, creeremo una solida base di competenze e conoscenze. Ogni piccola conquista quotidiana si accumulerà, portandoci sempre più vicini ai nostri obiettivi a lungo termine e permettendoci di realizzare grandi imprese con la stessa dedizione e determinazione di Miyamoto Musashi. Non abbandonare mai il tuo cammino. Una delle principali cause della mancanza di disciplina nelle persone è la mancanza di pazienza. Quando iniziamo qualcosa di nuovo, spesso cerchiamo risultati rapidi poiché siamo abituati alla soddisfazione istantanea che ci offre la società attuale, con le sue risposte rapide e gratificazioni immediate. Tuttavia, la via del vero successo richiede tempo, dedizione e soprattutto pazienza. Miyamoto Musashi, il famoso samurai, aveva un mantra che ripeteva costantemente a se stesso, non abbandonare mai il cammino. Questa frase rappresentava per lui una guida e una fonte di forza nei momenti di difficoltà. Anche lui, come qualsiasi altro essere umano, aveva momenti di dubbio e incertezza durante il suo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, la sua capacità di mantenere la rotta, nonostante le sfide, è ciò che gli ha permesso di diventare un maestro nella sua arte. Se abbiamo chiaro un obiettivo, è fondamentale concentrarci su di esso con dedizione e avere la pazienza necessaria per affrontare le difficoltà che inevitabilmente incontreremo lungo il percorso. La chiave è essere sicuri di ciò che stiamo facendo e di quello che vogliamo raggiungere. Fermiamoci a riflettere se siamo veramente impegnati nel nostro obiettivo e se siamo disposti a sacrificare tutto il necessario per raggiungerlo. Questo impegno totale è essenziale per non perdere la motivazione e per affrontare le sfide con determinazione. Con questa idea chiara nella nostra mente, aggiungendo una buona dose di pazienza e concentrazione in ciò che bisogna fare, prima o poi raggiungeremo ciò che ci proponiamo. La strada potrebbe essere lunga e difficile, ma con la disciplina giusta, il successo è inevitabile. Questa è la formula della disciplina, un equilibrio tra la chiarezza dell'obiettivo, la pazienza nel processo e la concentrazione sull'azione. Ogni passo compiuto con determinazione ci avvicina sempre di più alla nostra meta, trasformando ogni sforzo in un mattone con cui costruiamo il nostro futuro. Vivere con onore, Miyamoto Musashi, uno dei più grandi samurai della storia, non solo eccelleva nell'arte della spada, ma incarnava anche i principi etici del Bushido, il cammino del guerriero. Il Bushido, un codice di condotta seguito dai samurai, era composto da sette virtù fondamentali, onore, rispetto, integrità, onestà, coraggio, compassione e lealtà. Di tutte queste virtù, l'onore rappresentava il pilastro centrale. Per i samurai, l'onore non era semplicemente una virtù, ma un modo di vivere. Era il rispetto di se stessi e degli altri, riflessi in azioni di onestà, rispetto, integrità, coraggio, compassione e lealtà. Agire con onore significava seguire una strada retta e non scendere a compromessi sulla via della giustizia e della verità. Significava anche rifiutare la tentazione di imboccare scorciatoie o di scegliere la via più facile, optando invece per la strada della dignità e dell'integrità. Chi vive con onore si distingue per la sua coerenza e la sua integrità morale. Non barare, non mentire e non manipolare sono azioni che emergono naturalmente quando si è guidati dall'onore. Inoltre, chi è guidato da questo principio non cerca la soddisfazione istantanea o il piacere a breve termine, ma è capace di sopportare le difficoltà e di perseverare nei momenti di sfida. La vera forza dell'onore risiede nella consapevolezza di se stessi e nelle proprie capacità. Chi vive con onore sa quali sono i propri limiti e quali sono le proprie potenzialità. Questa consapevolezza gli conferisce la determinazione e la forza d'animo necessarie per affrontare ogni ostacolo lungo il cammino verso i propri obiettivi. Essere disciplinati è un naturale risultato di vivere con onore. La disciplina deriva dalla coerenza tra ciò che si pensa, si dice e si fa, e dall'impegno costante nel perseguire ciò che si crede essere giusto e vero. In questo modo, l'onore diventa non solo una virtù, ma anche un modo di vivere che porta alla realizzazione personale e al successo duraturo. Cosa pensi della filosofia di Miyamoto Musashi? Attendo il tuo feedback nei commenti. È essenziale ricordare che nessuno è perfetto e che incontreremo molte sfide nel nostro percorso verso la disciplina. Dobbiamo essere realistici e accettare che potremmo commettere errori lungo la strada. Tuttavia, ciò che conta è la nostra capacità di riprenderci e di tornare sulla retta via ogni volta che ci allontaniamo. Indipendentemente da quante volte possiamo deviare, l'importante è ritornare al nostro percorso il più rapidamente possibile. Con il passare del tempo, queste deviazioni diventeranno sempre meno frequenti. Prendi spunto dall'allenamento di Musashi con le sue spade per sviluppare la tua disciplina. Sii costante e determinato nel perseguire i tuoi obiettivi. Se non stai attivamente lavorando sulla tua disciplina, prova almeno una volta al giorno a compiere qualcosa di difficile o scomodo per te. Questo ti aiuterà a rafforzare la tua determinazione e a costruire abitudini più solide nel tempo. Spero che questo messaggio ti sia utile nel tuo percorso verso il successo. Resta motivato e impegnato. E non mollare mai. Alla prossima!